Allora, quindi, questo video è un po' diverso, perché è un unboxing un po' diverso dal solito, intanto... ...tutto casino qua... Dunque, 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 io non ho idea di quanta gente che effettivamente ci segue giochi a Magic, non mi interessa... ...mi interessa se c'è qualcuno, se non c'è nessuno, frega niente... Questo video è di unboxing di un ordine che ho fatto, l'ultima volta che ho fatto un ordine, definiamolo serio, risale tra dicembre e gennaio di 2015-2016. Quindi, secondo me, sono passati più di due anni, mi sono detto, ma sì, dai, cambiamo un po' di cose... Quindi mi sono preso un pacchettino di robe, 15 carte, così nell'unboxing vediamo anche se ci sono tutte. 15 da Magic Corner, comprate da lì, così magari vedono il video e dicono, ah, ma questo ci fa pubblicità, diamogli le carte gratis. Magari. Che non accadrà mai, però. Bene, bene, che cosa dire? Bene, disse la signora Irene. Bene, e niente, a differenza di i miei soliti ordini, in questo giro ho preso carte che sono più in meta per il formato che gioco io, che so che è il Modern. Allora, intanto, vediamo questo pacchettino di forteggi carte dentro il pacchettino originale, con, madonna, ci impiego due giorni adesso ad aprirlo. Mostriamo tutto. Adesso faccio il David di turno e fra un quarto d'ora forse riesco a... non è vero, l'opero subito. Allora, vediamo se ci sono tutte e 15. Vediamo, vediamo, ho preso anche uno in spagnolo perché costava di meno, ho detto, vabbè, a sto punto risparmiamo tanto. Lo spagnolo lo si sa più o meno da italiano. Quindi pacchettino, tutto, io l'ho ritirato a mano, non è neanche arrivato per posto, sono andato in negozio a ritirarlo a mano e comunque tutto è impacchettato perfetto per preservare la freschezza. Quindi abbiamo... qua abbiamo anche una mini bustina, vuol dire che c'è qualcosa di più importante in mezzo. Infatti, dovremmo avere quattro Spreading Seas e infatti quattro... Arcanizeria, devo tenere al contrario. Quattro Spreading Seas, molto belli, molto utili e infatti vengono usati anche da un sacco di tempo e non li avevo mai presi. Poi, un Dictado Criptico. Questa è quella in spagnolo che costava di meno. Questa quindi, ho detto, ma sì dai, prendiamola in spagnolo, tanto si capisce, perfetta. Infatti, condizione come va detto, Mint Near Mint e direi che ci siamo sia davanti che dietro. Quanto poggiamo è solo cinque, quindi. Poi un bel Settle the Vreckage, un po' rosico di averla presa adesso perché... che ha un sovrapprezzo, diciamo, perché è nel formato standard e quindi se lo standard non ci fosse o fosse fuori dal formato, tipo se fosse bannato o non so, costerebbe di meno. Eh, vabbè, fa lo stesso. Non avevo tempo da aspettare. Cioè, più che altro non avevo voglia di aspettare e dire, ah, vediamo se ci sarà più avanti. Intanto ho deciso di iniziarmi a muovere subito. Quindi, anche un Settle the Vreckage che può avere la sua utilità, specialmente con cose molto fastidiose. Poi, la carta... cioè, non principale però, di importanza più che rilevante, sono i due Search for Atskanta. Le ricerche di Atskanta che flippano. Quindi, per ora c'è tutto. Cioè, le quantità sono giuste. Quindi, due Search for Atskanta, li mettiamo con noi. Poi, sono preso anche, perché sono stronzo, due Gideon, quelli nuovi, cattivi, che se guardate bene, copron quasi il nome con la capoccia. Che è una cosa che non dovrebbero fare le carte in generale. Quando si fanno altre Dart, non bisognerebbe coprire il nome. E loro fanno una carta loro, che il nome invece lo copre. Quindi, vabbè, cazzi loro. Due. Adesso queste qua le mettiamo nel mazzo. Ah, giusto, non ho introdotto che ho un bianco-blu controllo, ma ormai sì, sarà capito. Per cui, mi sono preso anche un altro paio di fetch. Belle. Non ne vero fangare. Questo disegno fa schifo. Però costa di meno. Io avrei voluto... Vabbè, ma a me piace quello che è uscito adesso promo, però ovviamente promo costa. Però piuttosto quella vecchia, ma la fa a pagare di più. Quindi, prendo questo qua che costa di meno e funziona uguale. E poi tre carte più o meno inutili, quindi mi sembra che ci sia tutto. Cioè, non più o meno inutili, però molto meno rilevanti. Ma comunque, due andranno bene. Una me la tengo per divertimento. Quella che tengo per divertimento è Rendere Silente. L'unica bicolore che mi sono preso. Le altre che metto dentro, anche nel mazzo, sono un bel nodo logico di revisioni future. E un Condemn, perché quattro Path to Exile non mi bastano. Quindi, dovrebbero essersi tutte quindici. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, 11, 12, 13, 14, 15. Bravissimi. Il team di Magic Corner, bravi bravi. E adesso mi sto adoperando anche per trovare, per prendere ad un prezzo decente. Intanto, per prendere un pezzo decente, anche questa qua la voglio tenere davanti, perché è bella. E le altre le metto dietro. Anche Jace, lo scultore di menti, solo che i prezzi sono abbastanza proibitivi, per cui mi devo impegnare per cercare il modo di ottenerne due, oltretutto, neanche uno due, ad un prezzo umano. Quindi, intanto, questa qua è in spagnolo, bellissima. Così adesso abbiamo il mazzo poliettico, perché ce l'abbiamo in inglese, italiano, tedesco. E finalmente anche spagnolo. Ci fermiamo qui, quindi. Avevo fatto il passaggio della telecamera in su, solo che mi sono reso poi conto che effettivamente fa un rumore della madonna. E quindi, guardando verso il futuro, iniziate a giocare a Magic, per favore, perché è bello. Preparatevi a spendere dei soldi, a passare dei guai. E, se niente, se avete il dubbio se iniziare o meno, noi vi consigliamo di iniziare, perché anche Claudio gioca. Il nostro primo video, effettivamente, è con delle carte di Magic. E magari scopriamo che tra il pubblico c'è un sacco di gente che gioca ed è interessata, e quindi potremmo farne anche degli altri. Un salutone e al prossimo video, che sarà prima o dopo.